Anche ieri altri due nuovi casi a sciacca di soggetti risultati positivi al coronavirus. Si tratta di un uomo e di una donna entrambi di mezza età e si trovano in auto isolamento domiciliare. Contestualmente nelle ultime ore c'è stato anche un altro guarito, il secondo in due giorni. Si tratta di un uomo di 60 anni risultato negativo al doppio tampone. Il numero ufficiale di persone saccensi tuttora contagiate dunque di 47 compresi i cinque pazienti ricoverati quattro all'ospedale Sant'Elie di Caltanissetta, uno in una struttura palermitana. Nuovi casi che dunque continuano a registrarsi sia pur più lentamente rispetto ai giorni precedenti. Intanto è anche un altro aspetto della vicenda quello delle guarigioni che continua non solo a suscitare perplessità ma anche preoccupazione. Se da un lato ci sono tamponi che a volte vanno a rilento, dall'altro pare che la guarigione da covid sia lunga e lenta. Non mancherebbero infatti i casi di positivi che al primo tampone di verifica dopo quello che aveva accertato la positività sono risultati negativi per poi risultare nuovamente positivi al successivo tampone di verifica cui vengono sottoposti nell'arco delle 48 ore rispetto al precedente. E così inizia nuovamente l'altra fila e l'agonia dell'attesa del nuovo doppio tampone. Ieri nel frattempo ha destato tanta commozione a Sciacca la notizia della morte dell'uomo di 72 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni Paolo II. C'è un dramma immane anche per i familiari delle vittime di coronavirus. Non si possono celebrare i funerali delle persone positive al covid. Lo impongono le disposizioni in vigore e i rigidissimi protocolli sanitari. In pratica le salme vengono portate direttamente al cimitero. Per le vittime di covid dunque neanche l'ultimo saluto attraverso le esequie. Una situazione questa che se possibile rende la perdita del proprio caro ancora più dolorosa. A livello regionale ieri per la Sicilia è stata in assoluto la giornata con il record di nuovi contagiati dall'inizio della pandemia ben 198. Una nuova vittima ossia il 72enne deceduto all'ospedale di Sciacca che ha fatto salire il numero di morti in totale a 322. I nuovi positivi adesso sono 3.448, 368 le persone ricoverate con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Dei nuovi positivi 72 in provincia di Palermo, 51 a Catania, 28 a Trapani, 15 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento. Tra i nuovi casi in provincia ci sono 5 nuovi positivi nella città dei Templi tra cui una bambina di 5 anni, un nuovo caso ad Aragona dove i positivi adesso sono 18, un nuovo caso anche nei comuni di Ravanusa, Palma di Montechiaro e Santa Margherita a Belice dove i contagiati da coronavirus sono saliti a 4.